8.171 giovani giuristi addetti all'ufficio per il processo in arrivo nei tribunali italiani. Il bando per il reclutamento è stato pubblicato in gazzetta ufficiale e c'è tempo solo fino al 23 settembre per presentare le domande di accesso. L'ufficio del processo è nato per supportare i magistrati nelle attività sia propedeutiche che collaterali alla decisione ed è stato sperimentato in diversi uffici giudiziari. Ora viene esteso a tutti i distretti le assunzioni finanziate con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza avverranno con contratti a tempo determinato di tre anni. Al termine il servizio prestato costituirà punteggio per i futuri concorsi della giustizia e delle altre pubbliche amministrazioni ma anche titolo di accesso al concorso di magistrato e preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria e oltretutto equivalente ad un anno di tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio. Si apre una grande occasione per migliaia di giovani giuristi, per l'intero sistema della giustizia, ha commentato la ministra della giustizia Marta Cartabia, laddove la sperimentazione dell'ufficio per il processo ha funzionato, anche i tempi di definizione dei processi sono calati in modo drastico. Grazie alla procedura semplificata e straordinaria di assunzioni prevista dal decreto reclutamento della pubblica amministrazione appena approvato, ha detto invece il ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, facciamo un altro passo avanti per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un innesto di competenze e risorse che avverrà in tutti i settori della pubblica amministrazione. Il concorso è riservato ai laureati in materie giuridiche ma anche con laurea triennale e per una quota anche ai laureati in economia e commercio o scienze politiche o titoli equipollenti. Dopo l'estate sarà pubblicato un nuovo bando per 79 posti negli uffici delle province autonome di Trento e Bolzano e per altri 5.410 unità a tempo determinato per il personale tecnico e giuridico amministrativo. Nel 2024 sarà assunto un altro contingente di 8.250 addetti all'ufficio per il processo che così saranno in totale 16.500.